Questa, Bosco... Qua... 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 Questa, Bosco... Collega... Sì, dimmi... Sì, ma... Come mai l'appuntato Sciacqua la Cozza non è venuto oggi in ufficio? Ah, tu non sai niente o lo sai? No... L'appuntato Sciacqua la Cozza è ricoverato in ospedale? Oh, fratture e traumi multiple! Veramente! Scusa, ma io ieri l'ho visto per strada con una sorta di biondazza che puoi mettere dentro? L'ho visto io ieri, sì... L'ho visto anche la moglie la più! E' togli, mi... E' un'altra cosa che domani sa... Pah! 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 Pah!